A 2000 metri, immerso tra le vette delle Dolomiti, nasce l'anemone bianco, la nostra struttura ricettiva, situata a passo del tonale, dove il design moderno si fonde con materiali premium, dove il lusso si sposa con la convenienza, perché crediamo che il comfort delle nostre stanze non debba essere un lusso riservato a pochi, ma una delizia accessibile a tutti. Concediti il privilegio di svegliarti circondato dalle maestosità delle montagne, a pochi passi dalle emozionanti piste da sci, scegli l'anemone bianco e rendi la tua esperienza a passo del tonale indimenticabile. Prenota ora.